Una testimonianza del suo operato e del suo impegno quotidiano. Padre Maurizio Patriciello ha incontrato nei giorni scorsi gli studenti dell'Iceo de Bottes di Torre del Greco. Due ore a confronto con i ragazzi nell'aula magna della scuola per rispondere anche ai loro quesiti e alle loro domande. Dopo gli indirizzi di saluto della dirigente scolastica Letizia Spagnolo, diversi gli argomenti trattati. Don Maurizio Patriciello è parco della comunità di San Paolo Apostolo al Parco Verde a Caivano ed è particolarmente attivo nella difesa delle persone e del territorio dai soprusi della criminalità organizzata. Scrive per diversi quotidiani e riviste tra cui l'Avvenire. Il 12 marzo 2022 una bomba carta è esplosa davanti alla porta della sede della comunità. In seguito a questo evento e ad altri atti intimidatori da parte di Gnoti gli è stata assegnata la scorta. Metti un angelo sul mio cammino e l'angelo vi assicuro che arriva sempre per la sera. In un modo o nell'altro un angelo arriva sempre. Penso che per questa sera di angeli ne sono arrivata più di uno sul mio cammino. E spero che anche sul vostro cammino sia passato un angelo stamattina. Grazie a tutti.